Buongiorno piccoli verdi gioie, bentornati e bentrovati sul canale se siete nuovi qua si parla di piante da interno e da esterno. Oggi per i fondamentali parliamo di acqua. Bando alle ciance, via col video! Ho già fatto un video sulle innaffiature che ti lascio qui sotto nel box in descrizione. Qui voglio approfondire e integrare appunto gli argomenti per sviscerarli al meglio. Quindi se non hai visto il video precedente corri subito a guardarlo e poi torna qui a guardare questo. La prima regola per una corretta innaffiatura parte dal terriccio. E lo so adesso come penserete, oddio questa ci deve parlare di acqua e parte dal terriccio, c'è qualcosa che non va. In realtà se abbiamo il terriccio giusto, il terriccio corretto, possiamo anche sbagliare tra virgolette l'innaffiatura. In che senso? Nel senso che se abbiamo un bel terriccio drenante, un terriccio ricco, un terriccio che sgronda velocemente l'acqua, noi potremmo dare tantissima acqua alle piante ma questa defluirà, passerà attraverso il terriccio e non causerà tutti i danni che di solito si vedono come per esempio il marciuma radicale. Il terriccio invece, esausto, il terriccio che non drena, il terriccio scadente, quello da poco prezzo per capirci, è un terriccio che si compatta molto facilmente, è un terriccio che trattiene molto l'acqua, non la lascia defluire ed è lì che allora si creano i problemi più grandi. Quindi quello che vi consiglio io è, se vogliamo piante sane e non sbagliare le innaffiature, usiamo un terriccio corretto. Vi ho fatto un video sui terricci, ve lo lascio sempre qui nel box in descrizione perché potrebbe servirvi se non l'avete ancora visto. Il secondo punto che voglio toccare per quanto riguarda le innaffiature è non saper distinguere la pianta che ha bisogno di acqua, cioè che ha sete, con la pianta che invece ha un problema radicale, come per esempio il marciume. Ma non solo, comunque piante che noi vediamo grinzose, appassite, come faccio a distinguere fra una pianta che ha sete e una pianta che invece ha un problema radicale importante? E' semplicissimo. Se la pianta ha il terriccio bagnato, allora non può essere che ha sete. La pianta ha sete quando la terra è secca, quando la terra si stacca dal vaso, quando la terra è molto chiara. Questi sono i segnali che la pianta è in appassimento perché ha effettivamente sete. Se noi abbiamo una pianta con le foglie grinzose, faccio esempio dell'orchidea perché l'orchidea è proprio il top, è quella molto semplice da individuare. Se noi abbiamo una pianta con le grinze, le foglie flosce, ma il terriccio è bagnato, il bar che non si asciuga e non si asciuga per diversi giorni, è impossibile che la pianta abbia sete. Quindi lì avrò un problema ovviamente radicale, dovrò svasare e controllare. Quindi mai innaffiare una pianta che ha le foglie in appassimento ed ha il terriccio bagnato. Lì il problema è un altro. Il terzo punto che voglio analizzare e non mi stancherò mai di dirlo, è la mortalità per le vostre piante e sogni ristagni idrici. Vi consiglio sempre di fare innaffiature quando avete tempo, di non lasciare acqua nei sottovasi, di non lasciare acqua nei coprivasi perché il ristagno idrico purtroppo è fatale. Le radici hanno bisogno di ossigenare, quindi l'acqua impedisce proprio questa ossigenazione, l'acqua che ristagna nei sottovasi. Vi consiglio sempre di usare i sottovasi perché li uso anch'io, non c'è nessun problema, ma di non dimenticarvi poi di svuotarli. Una pianta in media, se ha molta sete ed è molto lenta nel bere, mi viene in mente il problema di un terriccio molto secco, non ci piegherà 4 ore per bere, in mezz'ora, un'ora al massimo, se proprio vogliamo essere super sicuri, un'ora e mezzo la pianta ha bevuto. Dopo dovete assolutamente svuotare il sottovaso perché il ristagno dell'acqua impedisce l'ossigenazione dei tessuti anche quando il terriccio è di buona qualità ed è in buono stato. Il quarto punto che voglio analizzare è la fatidica domanda innaffio da sopra, innaffio da sotto. E qua si creano le peggio discussioni sui forum, su Facebook, eccetera, eccetera. La prima fazione sostiene che innaffiare dall'alto è deleterio, pericolosissimo, le piante marciscono e quindi bisogna innaffiare dal basso. La seconda fazione sostiene che innaffiare dal basso non serve perché l'acqua non arriva fino in alto e quindi le piante non bevono correttamente. Queste sono le due fazioni, diciamo. Allora, in realtà una pianta innaffiata da sopra non marcisce se la innaffiamo correttamente. Quindi questo significa che se non facciamo entrare l'acqua nel colletto, se non facciamo entrare acqua nella rosetta basale, questo può valere soprattutto per orchidee, sanseverie, echeverie, insomma tutte quelle piante che hanno delle rosette dove l'acqua che penetra e ristagna ovviamente crea marciumi. Ma se noi innaffiamo queste piante da sopra con calma, lentamente e magari a bordo vaso, tutti questi problemi noi li abbiamo già evitati. Quindi è corretta sia l'innaffiatura da sopra che l'innaffiatura da sotto. Ce n'è una che è migliore però delle due. E adesso ci arriviamo. Intanto bisogna sapere che le piante non solo dall'acqua prendono nutrimento, ma lasciano anche delle, chiamiamole, schifezze. Cioè scaricano tossine e questo è fondamentale da sapere per poi regolarsi. Quindi quando noi innaffiamo dall'alto abbiamo l'acqua che penetra nel vaso e abbiamo un dilavamento del terriccio, delle radici e l'acqua che entra dall'alto e va verso il basso si porta via, diciamo, queste tossine. Si porta via anche i concimi. Quindi è per questo che noi concimiamo regolarmente le piante in vaso. Perché l'acqua che porta via, porta via un po' di tutto. Ma soprattutto porta via le tossine. Mentre quando innaffiamo da sotto per immersione, noi abbiamo un accumulo. Quindi queste tossine rimangono all'interno del sottovaso e ristagnano. Quindi se innaffiamo per immersione, ovviamente queste tossine rimangono nell'acqua. Non è sbagliato innaffiare dal basso. Lo faccio anch'io. Soprattutto con le succulente e le cactacee. Ma ogni 3-4 innaffiature dove io innaffio da sotto, ne faccio una comunque dall'alto. Quindi anche se sono cactus, anche se sono succulente, ovviamente facendo attenzione alle rosette basali e a non inondare la pianta, quindi innaffiando da bordo vaso, faccio sempre una innaffiatura dall'alto verso il basso. Quindi un dilavamento. C'è un altro problema che noi potremmo riscontrare, ma non è detto, quando innaffiamo dal basso per immersione. Mi immagino il lavandino col tappo, la bacinella, il catino, insomma, dove noi andiamo a immergere le piante una dopo l'altra, oppure tutte insieme. C'è questo problema che se una ha delle patologie che ancora sono in incubazione, potremmo passarla alle altre. Quindi per trarre una conclusione sarebbe sempre meglio innaffiare dall'alto. Come mi comporto io, visto il problema idrico che c'è? Perché ovviamente innaffiare dall'alto e fra sgorondare acqua, ovviamente se ne consuma di più. Io in realtà la raccolgo. Faccio le innaffiature dall'alto, non me la sento di buttarla via. Quindi innaffio la pianta tenendola sollevata. Sotto qui ovviamente ho il lavandino chiuso o un catino. La innaffio la faccio sgrondare bene. Innaffio abbondantemente, raccolgo l'acqua che cade. Questa la metto a sgocciolare, meglio se sul lavandino o comunque in un sottovaso, e tutta quell'acqua la recupero. È una via di mezzo fra l'inaffiatura dall'alto e quella dal basso, perché mi permette comunque di avere acqua che passa e quindi che non ristagna. Quindi è meno facile che i patogeni si fissino. E mi permette comunque di raccoglierla. Questa è una via di mezzo che io ho trovato abbastanza valida per non consumare molta acqua in questo momento, che insomma non mi sembra il caso. Prima di passare al quinto punto, che è quello più importante, ti chiedo di mettere un like al video e di iscriverti al canale per supportarmi e aiutarmi e ovviamente per far crescere la community. Più siamo, meglio è. Il quinto punto riguarda l'acqua sbagliata o l'acqua giusta. Cosa si intende per acqua sbagliata? Allora, già nell'altro video vi ho parlato della temperatura dell'acqua, che deve essere a temperatura ambiente. Addirittura per alcune piante come le orchidee, utilizzo un'acqua nemmeno a temperatura ambiente, ma la utilizzo tiepida, intorno ai 30-35 gradi, perché è quella più simile all'acqua che ricevono in natura. È importantissimo, come sapete, evitare gli shock termici, quindi con acqua fredda non si innaffia mai, né in inverno né in estate, questo mi raccomando. Ma non bisogna solo considerare la temperatura dell'acqua, esiste anche l'acqua giusta e l'acqua sbagliata. Mi riferisco in particolare all'acqua calcarea. Bisogna fare una distinzione. Allora, l'acqua giusta per innaffiare le nostre piante ha un pH di 6,5. L'acqua che noi prendiamo dal rubinetto o dalle nostre falde acquifere, addirittura in alcuni pozzi, è piena di calcare, di calcio, mi dirà qualcuno. Allora, bisogna fare una distinzione fra il calcare del rubinetto, che è carbonato di calcio, e il calcio, quello utile alle piante che serve per la fotosintesi e dà i nutrimenti alle nostre piante, che è il nitrato di calcio. Quindi bisogna ben distinguere il calcio che c'è nel rubinetto, quindi come noi chiamiamo il carbonato di calcio, col nome comune di calcare, e il nitrato di calcio, che invece è quello che fa bene le nostre piante. Perché il calcare è dannoso per le nostre piante? Perché insieme al ferro e al magnesio si combina e formano una soluzione che è insolubile nell'acqua e quindi impedisce la corretta fotosintesi alle piante. Causa poi foglie gialle e lo vediamo anche perché si crea una patina bianca proprio sul terriccio. Quello è il calcio, quello dannoso, il carbonato di calcio. Quindi come facciamo per togliere il calcare dalla nostra acqua? Allora, ci sono diversi modi. Una è farla decantare per 24-48 ore, ed è la prima. La seconda è renderla leggermente acidula. Come faccio? Ogni 10 litri d'acqua io metto due cucchiai di aceto di vino bianco, all'interno mescolo, la lascio riposare qualche ora, 8-10 ore, e ho un'acqua in cui il calcare si è depositato sul fondo. Quindi accelero la fase 1 che era farla decantare per molto tempo. Quindi quello è un accelerante. E questo è un ottimo metodo. 3- Usare acqua dei deumidificatori. Sconsiglio l'acqua delle asciugatrici perché lì ci potrebbero essere residui di saponi che non vanno assolutamente bene e potrebbero esserci, anzi ci sono sicuramente, anche residui di microplastiche che poi vanno a finire nel terreno delle nostre piante e non è proprio il massimo. Soprattutto se sono piante che noi mangiamo come le aromatiche o le officinali. Insomma, mi vengono in mente queste due categorie che sono molto importanti. L'acqua demineralizzata non a calcare. Il problema è che non ha neanche tutti i nutrimenti che ha l'acqua normalmente. Quindi vi consiglio di usarla, sì, magari alternata a un'acqua acidificata. Usatela una volta e una volta così siete sicuri che almeno la vostra acqua sia anche ricca di sostanze nutritive. 5- Usare l'acqua di bollitura o acqua bollita. Nel senso, cuocio le verdure e recupero l'acqua. Ricordiamoci però che quest'acqua non deve essere salata. La stessa cosa vale per l'acqua della pasta. Se io salo l'acqua, poi tutti quei sali mi andranno nella terra della mia pianta e potrebbero causare gravi abbastanza seri perché i sali ovviamente non vanno bene per le piante. Il sale si usa come diserbante, quindi questo vi fa capire il problema che potrebbe causare. Quindi acqua di bollitura, sì, ovviamente raffreddata e ovviamente senza sale. Un altro metodo molto valido per depurrare l'acqua dal calcare è usare un filtro come i filtri per i lavandini che quelli fanno bene anche a noi oppure usare la brita. Io tante volte mi faccio l'acqua con la brita e un filtrino appunto che toglie calcare e scorie e vedete anche la qualità della vostra acqua perché se l'acqua è molto calcarea all'interno, quindi sopra il filtro vi rimarranno proprio i residui del calcare visibile a occhio se è molto molto calcarea. Per fortuna quella di casa mia non lo è. All'ultimo posto c'è l'acqua che io preferisco e che per me è la migliore, è l'acqua piovana. Dovete però utilizzare una piccola accortezza per l'acqua piovana raccolta siccome comunque l'atmosfera è inquinata e questo vale da Milano al sud Italia isole comprese come diceva una famosa pubblicità dovete usare un'accortezza. Prima di raccogliere l'acqua piovana deve aver piovuto per almeno 20 minuti, mezz'oretta. Lo so in questo periodo che piova mezz'ora è già tanto però in questo modo l'acqua avrà porto via dall'aria il pulviscolo, l'inquinamento e quindi l'acqua che raccoglierete sarà un'acqua pulita altrimenti andiamo a innaffiare con l'acqua comunque piena di particelle inquinanti che stanno nell'aria. Se anche tu conosci qualcuno che ha difficoltà con l'innaffiatura e che magari non sa queste cose condividi il mio video volentieri con loro e spero che questo video sia stato utile per capire al meglio come funziona e per approfondire il video precedente. L'acqua è un elemento molto importante ed è anche giusto conoscerlo un pochino meglio soprattutto in relazione alle nostre piante. Bene, il video di oggi finisce qui io vi do un bacione vi saluto e vi auguro una buonissima settimana con le vostre piante dalla Patti è tutto.